Su le mani dell'ospedale! Su le mani dell'ospedale! Grande mobilitazione a Sapri per protestare contro la chiusura del locale Punto Nascita. Sabato l'ennesima manifestazione per sensibilizzare le istituzioni ed indurle a rivedere il piano che in provincia di Salerno prevede la chiusura dei punti nascita di Polla e Sapri. Il tutto in attesa dell'incontro fra Regione e Governo, che potrebbe sbloccare la situazione in senso positivo. Presenti alla manifestazione numerosi sindaci e amministratori del territorio ed il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, Tommaso Pellegrino. Io credo che ci sarà da parte sia dello Stato che della Regione, ci dovrà essere per forza questa risposta su questo problema che è un problema estremamente serio del nostro territoriale. Però io da medico e anche da amministratore sono anche pronto a partecipare ad un tavolo dove cominciamo a discutere seriamente di quello che deve essere il futuro della sanità del nostro territorio. Quindi affrontiamo e cerchiamo di trovare una risposta, però cerchiamo di evitare di ritrovarci sempre nei momenti emergenziali. Questo tavolo dovrebbe essere l'assemblea dei sindaci del distretto e la conferenza dei sindaci dell'ASL. Conferenza dei sindaci che è scaduta da anni. Conferenza dei sindaci? Allora noi dobbiamo da amministratori sicuramente essere maggiormente responsabili perché non possiamo più riproporre dei momenti come questi che per me sono dei momenti che non danno l'idea di un territorio che può crescere. Noi da amministratori non possiamo esserci, partecipare, però nel momento in cui si arriva alla manifestazione significa che c'è una responsabilità politica e io sono tra quelli che me ne assumono le mie responsabilità. Però sono anche pronto a ripartire e a costruire un percorso di una sanità capace di dare delle risposte serie ai problemi del nostro territorio.